Mettiamo subito le cose in chiaro. Per quanto mi riguarda, potevamo pure non venderla. Sei tu che hai insistito per pagare i tuoi buffi. Tu sei mia sorella, però io ho anche due figli. Cazzo, Laura, non mi direi che stai per fare la cazzata di mettere i soldi in mano con i tuoi ragazzini. Ti prego, sicuramente se li sputtaneranno. Oh, basta! Viattatela! Per te loro non hanno il diritto di farci un futuro. Quando sento la gente che litiga mi viene un'ansia. Non dovevo venire oggi. Allora, alla base delle cooperazioni, l'obiettivo è sempre quello di sostenere la vita degli esseri umani. Sempre. Di garantire a tutti una dignità. Ma non mi conviene stare con te, perché sei una nullità. Io vado avanti e tu rimani indietro, attaccata a una cazzo di catena e ti trascini. Io sono contenta e mica sono triste. Mi entrano pure un po' di soldi, così me ne vado. Voglio andare via, voglio viaggiare. Allora, resto qua a fare la scima come vuoi. Cazzo! Volevamo chiederti una cosa molto importante.